Cominciamo a vedere questa prima introduzione sugli spettri R per poi arrivare a provare a fare delle interpretazioni nella lezione successiva. Se facciamo un confronto fra uno spettro R e uno spettro UV, vediamo già subito a colpo d'occhio che la definizione dello spettro R è decisamente maggiore rispetto a quello dello spettro UV. Nel senso che nello spettro R ci sono un numero di picchi decisamente più alto, poi abbiamo già messo in evidenza come nel caso dell'IR si lavori sulla trasmittanza percentuale, mentre nel caso dell'UV sull'assorbanza inordinate, nel caso dell'IR abbiamo il numero d'onda e nel caso dell'UV la lunghezza d'onda. Questo modifica anche l'interpretazione, nel senso che in questa zona, per esempio nell'IR, noi abbiamo l'energia maggiore perché il numero d'onda è maggiore, la proporzionalità è diretta fra numero d'onde ed energia, mentre nel caso della lunghezza d'onda era il contrario. Trasmittanza percentuale che cosa significa? Significa che un 100% di trasmittanza percentuale, quindi nella parte alta, vuol dire che non c'è stato nessun assorbimento. Man mano che diminuisce la trasmittanza percentuale, aumenta quindi l'intensità dell'assorbimento stesso. Quali sono le applicazioni di questa tecnica? È evidente che dato il numero di picchi e quindi le informazioni che questa tecnica può dare sulla struttura della molecola fanno sì che l'impiego principale sia un impiego di tipo qualitativo, cioè può giocare un ruolo fondamentale nel riconoscimento della struttura delle molecole. Ecco che quindi se io devo studiare un picco IR, devo andare a analizzare alcuni aspetti che sono presenti all'interno della mia registrazione. Allora, quali aspetti? La posizione, quindi dove cade il numero d'onda in cui cade il mio assorbimento. La forma, quindi qua non è particolarmente evidente, ma alcuni picchi sono più stretti, altri sono più larghi. E l'intensità, cioè quanto profondo è il picco, in pratica a quale trasmittanza percentuale cade il mio assorbimento. Quindi questo picco, per esempio, sarà più intenso di questo. Vediamo cosa significano questi tre aspetti. Allora, la posizione, quindi il numero d'onda a cui cade il picco è chiaramente collegato all'energia necessaria perché avvenga la vibrazione, nel senso che numeri d'onda bassi implicano una necessità per la transizione di energia inferiore rispetto ai numeri d'onda più alti. A cosa è collegato questo aspetto che abbiamo appena visto? È collegato essenzialmente alla rigidità del mio legame. Più il legame è rigido, più energia mi servirà per fargli comprare una transizione vibrazionale. Quindi, per esempio, se io considero il singolo legame carbonio-carbonio rispetto a un doppio legame carbonio-carbonio, rispetto, infine, al triplo legame carbonio-carbonio, vedete che l'energia è crescente. Cioè, il triplo legame carbonio-carbonio richiede, stiamo parlando di stretching in questo grafico, richiede per una transizione di stretching maggiore energia rispetto al legame carbonio-carbonio. Questo è abbastanza intuitivo, proprio perché il triplo legame è più rigido rispetto al legame semplice. Altro fattore che può influenzare l'intensità, no, scusate, la posizione, è il tipo di atomi coinvolti nel legame. Atomi più pesanti richiedono maggiore energia per compiere una transizione. E quindi, anche la massa, diciamo, degli atomi coinvolti nel legame può influenzare la posizione. L'intensità, invece, quindi la trasmittanza percentuale corrispondente, diciamo, al mio picco, è invece funzione di aspetti legati alla probabilità che la transizione avvenga. Quindi aspetti che hanno a che fare con le regole della meccanica quantistica e con il fatto che più è intensa la variazione del momento di lipolo della molecola, maggiore è l'intensità della transizione stessa. Quindi, anche questo, ovviamente, la variazione del momento di lipolo, a sua volta, è legata alla natura, diciamo, degli atomi coinvolti nel legame e del legame stesso. Infine, la forma, qua forse lo vediamo meglio. Vedete che, per esempio, questo picco ha una forma più larga rispetto, che ne so, a questo. E la forma, questo in particolare, questi si riferiscono, sono assorbimenti legati tutti e tre allo stretching fra ossigeno e idrogeno in un gruppo che è un gruppo H. La forma, vedete, è simile. Perché è simile? Perché il gruppo H è caratterizzato dall'avere questa forma allargata. E questo è legato, soprattutto, alla possibilità che il gruppo H possa formare, tra le molecole, dei legami idrogeno. Quindi, la forma è un aspetto che è influenzato dalla possibilità di legami secondari fra le molecole coinvolte nella nostra analisi R. E un'altra cosa che però volevo farvi notare in questa immagine è che vedete come cambia l'assorbimento dello stesso gruppo, perché stiamo parlando sempre dell'OH, dello stretching dell'OH, a seconda del composto che consideriamo. Questo è un alcol, questo è un fenolo e questo invece è un acido. Vedete come si sposta, come cambia la forma, ma come cambia anche la posizione del picco. Qua abbiamo un massimo che è in questa posizione, qua invece è a quasi 3.500 e questi sono magari confrontabili. Tutto questo, quindi, che cosa ci fa capire? Che ogni spettro IR è unico. Non esistono due sostanze che possono avere le stesse tipologie di transizioni vibrazionali. Però è anche vero che proprio perché le transizioni possibili sono tanti, perché man mano che poi aumenta il numero di atomi, queste transizioni aumentano, lo spettro IR di conseguenza può presentare una molteplicità di picchi. Ora, non è che noi riusciamo ad associare ad ogni picco l'esatta transizione, ma per fortuna, quando io ho dei gruppi funzionali, le transizioni che si ripetono sono sempre le stesse e sono abbastanza identificabili all'interno del mio spettro, perché queste transizioni di gruppo sono simili in intensità e in frequenza, quindi in posizione. Per cui è possibile dividere lo spettro in due aree. Quest'area qua, che è l'area dei gruppi funzionali, e quest'area qua invece che si chiama area dell'impronta digitale. L'area dei gruppi funzionali, come dice la parola stessa, è quella sezione dello spettro dove cadono gli assorbimenti dei principali gruppi funzionali, dallo OH, COH, eccetera, eccetera. Poi li vedremo. E l'area invece, e quindi diciamo è l'area di più facile interpretazione. Una volta che io so dove cade il gruppo funzionale, posso fare delle ipotesi e associare a un determinato picco la vibrazione possibile. Mentre molto più difficile interpretazione è l'area delle impronte digitali. Perché? Perché è dovuta soprattutto alla parte non di gruppo funzionale della molecola, quindi per esempio la catena carbonio-carbonio, carbonio-idrogeno, e con dei picchi che spesso si sovrappongono anche fra di loro. Però ugualmente si chiama proprio area dell'impronta digitale, perché mi permette di distinguere il resto della molecola rispetto al gruppo funzionale. Ma non tanto perché io per ogni picco riesco a stabilire che cosa è avvenuto, ma perché una volta che io ipotizzo una molecola, per esempio ho individuato che si tratta di un chetone, ora distinguere un propanone da un butanone non è assolutamente possibile guardando l'area del gruppo funzionale, perché tutti e due hanno solo il carbonile. Cosa li distingue? Li distingue il resto della catena, quindi quest'area potrebbe diventare importante per distinguere fra i due. Ma in che modo? Se io sospetto che ho un propanone, faccio uno spettro di un propanone, lo confronto con quello che ho ottenuto. Quindi per confronto nel momento in cui io ipotizzo già di che molecola si tratta. Ecco, questa è la prima parte introduttiva, poi entriamo nel dettaglio dell'interpretazione vera e propria di come appunto si procede per interpretare uno spettro.